Ciao ragazzi, io sono Gippus e oggi andiamo a stupire le persone con uno street magic Salve signore, possiamo fare un trucco di magia? Ah, salve Va bene, percibola una carta Aspetta che tolgo gli occhiali che guardo meglio Cosa faccio? Pesco una carta? A caso? A caso, con quella che vuole lei La posso guardare? Si, guardala, ricordala, farla vedere in telecamera Fatto? Mi dica stop quando vuole lei Stop Ok, la metta pure qui Se mi dai del lei mi sento troppo vecchio Mi chiedo di mettere le mani al tavolino Le mani così Adesso andiamo a spezzare le carte in questo modo Grazie Adesso puoi pure... Grazie Adesso andiamo a mischiare così all'americana Dopodiché Così all'italiana, diciamo O anche alla francese E dopodiché alla Carlona C'è un po' di carte così a faccia in alto Un po' di carte a faccia in basso Faccia in alto In modo da mischiare completamente la situazione Ok, adesso quindi ci saranno un po' di carte così Il governo al posto di Renzi Sicuramente meglio di Berlusconi Auguri, ciao Grazie Possiamo farvi un trucco di magia Un trucco di magia? Sì Perché trucco è? Ma deve essere un trucco curvo Vai allora, scelga una carta Va bene, la faccio vedere nella telecamera Faccio vedere la telecamera Ok Fatta Fatta? Allora, gli dica la stop quando vuole lei Stop quando vuole lei Stop quando vuole lei Adesso apre le mani così a tavoli Andiamo così a spezzare il mazzo Dopodiché andiamo A mischiare così Addirittura All'americana E il nuovo Silvan Eh, magari Adesso andiamo a mischiare così all'italiana Va bene O anche alla francese Perché dipende un po' dalle persone E dopodiché alla Carlona Cioè così un po' di carta faccio in alto Un po' di carta faccio in basso Faccio in alto Faccio in basso Quindi ci sono un po' di carte Eh, cioè La situazione è completamente mischiata Un po' di carte così Dorso faccia Faccia dorso È un casino Basta un attimo per schioccare le dita Che tutte le carte tornano a posto Tutte Tranne uno È bravissimo È un po' di carta bravissima Dai Ce l'ha fatta? Eh Ecco, dai, dai La faccio vedere in camera La faccio vedere qua Lì, sì, sì Ok Ah, poi lui Dove Sì Ah, va bene Mi dica stop quando vuole lei Basta Ok La metta poi qui Qui? E poi tu la tiri fuori E questo poi dove lo mettete? Su YouTube? Eh, non so, magari Allora, apro le mani così a tavolino Due mani così Due, beh Ah, ho anche uno con guanti Ah, va bene Grazie Adesso andiamo a spezzare un attimo il mozzo in questo modo Va bene Ne puoi pure Fuori rimettere i guanti Se è freddo Servono per lo 10 Va bene Adesso Mi mandano Un gallet Adesso Andiamo così A mischiare L'americana Sì Sì Cioè È così È già Difficile Dopodiché All'italiana Eh Sì O la francese Sì Dipende un po' E la fantastica E dopo di che Alla Carlone C'è un po' di carte così faccia in alto Un po' di carte faccia in basso Faccia in alto Così faccia in basso In modo da mischiare completamente la situazione Quindi ci sono un po' di carte così Dorso-dorso Faccia-dorso Dorso-faccia Sempre dorso-dorso Ma basta un attimo per schioccare le dita Ok Così Che tutte le carte sono girate Tutte Tranne uno Sarebbe a quale giusto A me è lino Perfetto Che non sta calda Molto bene O questo lo mandiamo All'interno di Pio Dica bene No, no, è bravo Io non so cosa Attualmente il trucco c'è Però Eh, non si può dire Eh, oltre Se no che magro farà Eh, no Saremmo tutti magro Bravo, bravo Comunque siete bravi Almeno due, tre ragazze Che fanno una cosa intelligente Perché svelare la magia È come togliere suona la musica Eh, bravo Fati i gol Vuoi venire? Peschi pure una carta Allora, questo Guarda che vuole lei Ok, aspetta Vediamo Di non fare danni No, tranquilla Ok Va bene E la facciamo vedere alla telecamera Una bella carta Ok Ok Adesso mi dica stop quando vuole lei Stop Va bene La metta pure qua Adesso vorrei aprire così La mia tavolina Allora Andiamo a spezzare il mazzo Ok Grazie Andiamo a mischiare Così All'americana Ah, è all'americana? Sì Dopodiché All'italiana così O alla francese Dipende Dipende La Ma è vero? Sta inventando No, no, è vero È vero Adesso Andiamo a mischiare la Carlona C'è un po' di carta faccia in alto Un po' di carta faccia in basso Faccia in alto Faccia in basso Così che la situazione si trova completamente mischiata Proprio come le carte Quindi ci sono un po' di carte così Dorso faccia Dorso dorso Così Faccia dorso Ma basta un attimo Per schioccare le dita Che tutte le carte Sono girate Tutte Tranne una Sta a vedere che è la mia Bravo Spero che il video vi sia piaciuto Se è così Dicete un like Condividete Iscrivetevi al mio canale Ciao ragazzi Mi trova paura Questa Mi trova paura Questa Mi faccio magia